AntoGertorControl ha stato parte del mio toolkit per l'implant-supporto di ristorazione della prosthetica di 7 reali. Io lo uso alla fine dell'operazione, quando ho deciso di installare il MUA o AirLink abattamento per supportare molti processi con il corretto titano. Io lo uso per controllare l'integrazione dell'implant e, prima di tutto, con il corretto titano tutte le prosthetiche di connexion. Compared con i usuali torque wrenches, il corretto controllo permette di un valore preciso titano con l'implant system. E' anche molto conveniente per disassembling e reassembling i complexi reabilitazioni, come i toronto breggi per i periodi edifici. in questa sessione. Nel mio uomo e nel lab, questo è un strumento fondamentale. basalto . ah a a a a a Grazie a tutti.